In estate negli orti spesso è presente questa pianta che è considerata un'infestante, invece è una pianta che si può mangiare, ma non solo si può mangiare, è veramente eccezionale. Questa è la Galinzoga ispida. Ha un nome un po' strano Galinzoga perché il nome del genere deriva dal cognome di questo sovrintendente dell'orto botanico di Madrid che per primo l'ha classificata. E' ispida perché è dotata di una peluria abbastanza tipica. E' una pianta che in Italia è considerata un'infestante degli orti, invece ad esempio se è andata in Sud America viene chiamata guasca e viene mangiata tantissimo, è presente in tantissime preparazioni culinarie. Non solo, sempre in Sud America, soprattutto in Colombia, la fanno essiccare e dall'essiccazione poi tritano la pianta e producono una polvere, una spezia, che usano come spezia. E viene utilizzata per cicatrizzare le ferite, quindi anche in fitoterapia. E ci fanno poi questa zuppa tipica con le patate e il pollo. E appunto, ripeto, la chiamano guasca. Allora, da cosa si riconosce? Allora, è una pianta erbacea che solitamente non diventa molto alta perché la trovate normalmente sui 20 cm. Può raggiungere comunque anche i 50 cm. Il fusto, dicevo, è peloso, anche se c'è un'altra specie che presenta meno pelosità. Le foglie si dispongono in maniera opposta, vedete? Sono dotate di un picciolo, hanno una forma romboidale, lanciolata, con alamina intera, con questo margine seghettato e apice appuntito. Le nervature sono molto evidenti, vedete? Parte anteriore della foglia, parte posteriore. E' sempre presente, cioè è sempre presente, scusate, in molti casi è presente il fiore. E' un fiore molto piccolo, è un cappolino di fiori, tipico delle asteracee, sostenuto da un brevissimo peduncolo. Io stacco la prima parte, voilà, quindi gambo e foglie più tenere e la faccio brevemente saltare in padella e poi la utilizzo o per fare le zuppe, per fare i risotti, ripiedi nelle piadine. Veramente ha un sapore per me eccezionale, veramente dovete provarla, è indescrivibile il sapore. Comunque se cominciate a mangiarla non la smettete più. E veramente tutti quelli a cui ho consigliato di mangiarla al posto che stirparla dall'orto mi hanno ringraziato perché è una pianta veramente molto buona. Eccola qua, Galenzoga Ispida.